si fanno delle esperienze fantastiche abbiamo due itinerari diciamo abbiamo quella da un'oretta che si arriva giù in spiaggia a buomarino e facciamo buomarino e la clea amino abbiamo pure quella che va da buomarino a torre salsa e poi abbiamo un aperitivo una grigliata qui sul posto dove i nostri ospiti passano momenti stupendi noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare questo ecoturismo siamo stati primi qui a montalevole iniziare anche gente da fuori che viene con i mezzi a portare i cavalli qui in zona e far vedere il nostro posto meraviglioso che va da torre salsa a dire clemino al fiume platani un altro percorso importante che noi facciamo ed è in primissi per gli esperti partiamo qui da buomarino e arriviamo fino alla foce del fiume platani dove si immergono i cavalli nel fiume e con esperienze fantastiche la felicità dell'opera mare è quella di portare tanta gente perché tramite i nostri siti web tramite instagram e facebook fanno il pacchetto dormire e cavallo quindi è stata un'iniziativa importantissima per il nostro territorio perché vengono a dormire e qui e vengono lasciare i soldi a montallegro che è la cosa più bella che può essere anche perché il territorio merita tantissimo grazie a tutti